Non si può improvvisare? Ma sai, è molto complicato perché ci sono dei talenti, non si può improvvisare nel senso che non si può fare senza avere un background, cioè che può essere normalmente di studio, ma anche oggi ci sono dei mezzi come YouTube per esempio, cioè ho i dischi una volta attraverso i quali una persona può documentarsi e quindi trarre delle influenze che possano formare la propria personalità. C'è chi ci arriva col talento, chi ci arriva con lo studio, con il sacrificio, ci sono vari modi per arrivare ad essere un artista. Oggi mi sento di poter dire che non tutti quelli che arrivano al successo sono quello che io considero essere un artista. Ci sono due dimensioni abbastanza distinte dal mio punto di vista. Continuo a credere che l'artista sia una persona che conosce il linguaggio della materia che frequenta, ma soprattutto che abbia uno spessore interiore molto grande. I ragazzi che escono da questi talent show diventeranno mai un Venditti, un Ranieri, un Vasco Rossi, un Liga Bue? È un discorso problematico nel senso che credo che ognuno di noi tre può dare una risposta differente. Questi talent scout, talent show diventano una fabbrica di illusioni più che una fabbrica di talenti? Non lo so, io credo che, ultimamente parlando per esempio del talent show forse più importante, oggettivamente che è quello che in qualche maniera ci lega, io perché l'ho fatto per sei anni in passato, maestro Vesicchio e Marcello Bollesta ci sono tuttora amici, ultimamente attraverso la collaborazione con le case psicografiche ha sfornato dei successi. Forse le conclusioni bisogna aspettare tre o quattro anni. Lei mi parla di successi, non di talenti. Sì, è successo, cioè, credo che fra tre cose... È diverso, è diverso, ma questo credo lo sia sempre stato. Ho paura che si sia innescato, o si possa innescare un meccanismo per cui la generazione attuale creda di arrivare ad essere un cantante con delle vie molto più semplici di quelle che in realtà io credo bisogna avere. Sai, l'altro giorno vedevo un'intervista di Ian Anderson che era il flautista degli Jet Rotal, un gruppo storico di Rock Progressi che ormai ha 65-70 anni e suona ancora con grande entusiasmo. E gli ha domandato, ma non si trova un po' fuori luogo, un po' vecchio per fare questa cosa? Gli ho detto, assolutamente no, prima perché ho lo spirito per farlo, ma poi quando io ero giovane i miei miti, che erano dei miti del blues, avevano 45, 50, 60 anni, perché io credo che un artista ha 60 anni, ha più cose da dire, per cui i miei miti, non è come un calciatore che ha 32-35 anni e finisce la carriera, un artista più va avanti e più diventa bravo, in teoria. No, in pratica è così, se la cultura attorno favorisce questo tipo di sviluppo.